Ancora una puntata delle Iene, senza Nadia Toffa. La conduttrice ha dovuto saltare l'appuntamento di domenica sera ma ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Facebook. Una foto di un primo piano, con un fular a coprire la testa e un testo con il ringraziamento a chi la sostiene. Eccomi qui. Con tutta la voglia di tornare alle Iene. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi. Nei giorni precedenti, e prima della puntata, si erano diffuse in rete, voci circa un nuovo forfè della conduttrice. Cosa poi in effetti è avvenuta? Nel post Nadia ha lasciato intendere di essere ancora alle prese con le cure ma allo stesso tempo di essere in dirittura di arrivo. Ed infatti, la conduttrice scrive. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo, che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno. Voi, datemi una mano, e passate parola. E noi diciamo. Forza Nadia. Grazie a tutti.